marcello tutti quanti e i gusti soprattutto perché qua genova ieri qua questi palazzi li vedi tutti i genuani erano tutti lì pronti sono lì che devono lottare per uscire dalla serie b di fare basta ho detto ma dai ragazzi su oggi tutti i negozianti tutti tutti ci compro tre cose per negozio guarda mi distruggo il conto tutti i soldi che tutti i negozi tre cose per negozio me li faccio tutti così imparano con il sorriso così allora partita parliamo un po della partita partita che ha visto una juventus uccidere tutti quelli che criticavano allegri muti 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 adesso fate finta che per mezz'ora dico muti ma non lo dico ma per mezz'ora vi rimbombi in testa perché non capite nulla di calcio nulla dovete solo stare zitti facce che chiedono scusa qua nella trasmissione vi voglio vedere tutti dal primo all'ultimo una serie di scuse perché se no non ti fate più juve bene perché bisogna dirle queste cose qua una juventus ieri sono rimasto flashato davanti alla televisione eccezionale un barcellona che come pensavo io a qualche qualche ormai è in fase calante quello bisogna anche dirlo il bayern è più difficile l'atletico è più difficile non ne la fai una partita così sanno difendere questi dietro sono al limite del ridicolo bisogna anche dire questo perché ogni azione che faceva la juve una juve che obiettivamente per fare gol ne macina di strada qua ogni volta che te sembrava di entrare nel burro queste sono le partite che non devono ingannarci che devono ecco perché allegri che intelligente testa di kaiser intelligente ha detto ha subito parlato del pescara in una serata così questo fa capire chi è allegri nessuno nemmeno murigno è capace di fare un'uscita del genere di parlare forse è lui forse è lui non me ne vogliano i juventini ma murigno forse è l'unico si può dire che può fare un gioco del genere oggi murigno e conte ex juve e juve dominator vi saluto con una zoomata sui gufi tutti fulminati nel letto perché sono le sei e mezza del mattino ciao marcello